Tre sacconi di materiali vari, dalle classiche buste o bottiglie di plastica e nuovi rifiuti dell'era Covid, ovvero guanti e mascherine, e quanto ha rinvenuto ieri l'associazione Bici Incontriamo Cinepressi del Coggesa, uno spettacolo indecoroso che ha spinto la stessa associazione, nell'ambito della campagna di sensibilizzazione pedala per la terra, a organizzare una pedalata ecologica sul tracciato della ciclovidia con lo scopo di individuare e geolocalizzare eventuali discariche abusive presenti. Comunicheremo al Comune di Sulmona quello che abbiamo trovato, ma dispiace notare che almeno due siti, subito dopo il Ponte dei Canali, che in passato erano stati già ripuliti dopo nostre segnalazioni, continuano ad essere meta preferita per liberarsi dai rifiuti ingombranti. Suggeriamo all'amministrazione di collocare lì per qualche tempo delle fototrappole, facendole seguire da multesalate a carico dei trasgressori probabilmente il fenomeno si allenterebbe, interviene l'associazione spiegando che nei pressi del Coggesa avrebbe voluto lasciare il tutto all'isola ecologica, ma è ancora chiusa, neanche stato possibile conferirlo direttamente presso gli impianti perché il regolamento lo vieta. Tranquillamente ci siamo portati dietro il nostro tesoretto fino al centro di Sulmona per poi lasciarlo a casa di una nostra socia, che lo conferirà il primo giorno utile per la raccolta del secco. La cosa ci ha lasciati a dir poco perplessi, concludono da Bici Incontriamoci che lancia la pedalata per scovare discariche abusive.